L'avete visto, è stata una liberazione, non ci ho capito più niente. Più che altro che non nascondo che è stato veramente il periodo più difficile della mia carriera da quando sono stato qui ad Arezzo. Sono contento di come ha reagito e sono orgoglioso di me stesso. Ci tengo a ringraziare Paolo, il fisioterapista che mi ha seguito in una clinica a Brescia, che è stato per 60 giorni con me, 45 giorni in stampelli, mi portava in giro. Posso solo ringraziare lui, lo staff medico qui dell'Arezzo e tutti quelli che hanno contribuito i miei amici a farmi stare sereno in un momento che non nascondo veramente difficile, soprattutto per uno che ci tiene tantissimo come me. Sì, sì, peccato anche per i gol che mi hanno annullato, lo voglio rivedere perché però dopo sono stato premiato lo stesso e mi fa piacere. Sì, la voglia c'è sempre. Io sono un giocatore che fa della fame, della cattiveria, la sua forza, è sempre stata la mia forza e spero di continuare così perché possiamo toglierci e posso togliermi delle grandi soddisfazioni. Quando stai fuori ti succede, tra virgolette, ti rompi il naso, rientri, stai con il naso rotto, ti rompono la caviglia e ti esce la tibia e devi ricominciare a... E poi dici, o devi fare una scelta o tiri fuori gli attributi e cerchi di rientrare il prima possibile, ci metti tutto te stesso oppure ti lasci andare perché non è assolutamente facile, penso che abbia avuto un'infortunio e mi possa capire. Però nel senso che nella vita c'è di peggio e adesso voglio solo godermi questo momento che me lo merito. Forse è il nuovo anno, non lo so, forse è il nuovo anno. Io non lo so cosa è cambiato. Io credo che magari vincendo e riuscendo a chiudere secondo me Corrimini, era Corrimini che abbiamo vinto? Sì, Corrimini quando c'è stato un tempo di suspense, perché io ero in tribuna, ero appena rientrato e c'era una suspense sull'1-0 incredibile e quando c'è stato il gol di Madrigali sul 2-0 dici, no, allora probabilmente i gol alla fine, come in zona Cesarini, non ci sono più quindi dopo fai un'altra vittoria, le vittorie portano entusiasmo, portano anche a consolidare il gruppo, portano a consapevolezza, portano tante cose serenità all'ambiente, al di fuori, poi insomma più vince più è bello e più è facile vincere.